Nel monumento abissale, livello finale dell'ultimo DLC di Minecraft Dungeons, Hide and Depths, ci sono i guardiani, ci sono i guardiani anziani e poi c'è il guardiano antico. In ogni caso, salve a tutti, sono Pugliela2007 e questo sì, è il continuo del video di un riguardo a Cthulhu in Minecraft. Con il nuovo DLC ci troviamo davanti a un DLC appunto in acqua con una scheggia dell'Orb of Dominance finita nel monumento abissale. Un monumento oceanico e un guardiano anziano in teoria ha trovato appunto tutto questo pezzo dell'orb. C'è da dire che, come un po' anche col tempio del deserto alla fine, il monumento abissale è molto più grande del monumento oceanico, senza contare il fatto che, inoltre, il nome è monumento abissale, non oceanico, come magari uno si aspetta. Inoltre, le decorazioni, anche da fuori, che il monumento oceanico, insomma, originale, non ha, senza contare la scala, inoltre, che permette di entrare, insomma. Ci sono varie cose, ma abbastanza diverse, le statue di villager. E poi c'è il guardiano antico, corrotto appunto dall'Orb of Dominance, almeno da una scheggia. C'è da dire che non può essere stato un guardiano anziano normale, per un motivo semplice. È gigantesco rispetto a noi, e i guardiani anziani non sono così grandi. Ora, questo posto, è molto particolare, questo monumento abissale, anche per il fatto che, cioè, si può trovare più facilmente, vedete, i guardiani anziani. Cioè, in un monumento oceanico normale, ce ne sarebbero due, tre, ecco. Questo ce n'è un po' da quel che, comunque, vuoi solle. Se contiamo, inoltre, quello che c'è alla fine del primo livello del DLC, che sarà pur ben arrivato da lì. Insomma, ha un sacco di guardiani, insomma, per essere un monumento oceanico normale. Io vorrei farvi dotare come ci troviamo davanti a una struttura gigantesca. Come potremmo quasi definirla una città sottomarina, subacqua? E se sì, è questo per caso relier in Minecraft. Del resto, probabilmente Minecraft Dungeons, come abbiamo già detto, comunque, nel video a riguardo di Minecraft Dungeons, nella timeline dell'universo di Minecraft. Minecraft Dungeons è nell'universo di Minecraft, cioè, è canonico. Quindi, questo potrebbe essere relier in Minecraft. Ma ho altre prove, per dirlo. Non posso semplicemente basarmi, effettivamente, sul fatto che è un monumento oceanico gigantesco. Punto. Cioè, non posso basarmi solo su questo. Andiamo, quindi, a dare un'occhiata al guardiano antico. Come possiamo vedere, insomma, c'ha, evidentemente, varie, appunto, tipo, alghe, insomma, e altre robe del genere che gli crescono addosso. Ma questo ha senso, ovviamente, perché è un guardiano antico. Non è anziano, che già l'anziano si vede che è un po' vecchio. O un guardiano normale. È un guardiano antico. Proprio antico. Ciò vuol dire che, ovviamente, la vegetazione, come è cresciuta sul tempio, da notare, sul monumento, che ciò suggerisce che è anche più vecchio degli altri monumenti, un pochino ce la dì, potrebbe... no, anzi no. Però, comunque, scusate. Comunque, ciò vuol dire che questo guardiano proprio è molto vecchio. Ma soprattutto vi vorrei far notare che ci sono delle cicatrici. a tre artigli, potremmo dire, a tre artigli, potremmo dire, un guardiano. E chiaramente non sono spaccature, sono proprio cicatrici. Lasciate la cosa. Ora vi espongo le possibilità. Axolotl, tridente, in teoria c'è anche il kraken, di cui vi avevo parlato in una teoria, però il kraken non può averli fatti, perché ha i tentacoli, non può lasciare quei segni. Ora, l'axolotl è troppo piccolo per poter aver causato quella evidente cicatrice. E stesso il tridente, senza contare che quello si impianta, non è che lascia la striscia lì, la cicatrice. E quindi a me viene inventata solo una possibilità. Cthulhu. Che Cthulhu si sia risvegliato evidentemente in questo monumento abissale, che in verità sarebbe il re Lier, e effettivamente abbia iniziato a far crollare, in un certo senso, sul monumento abissale, spiegando anche perché è così rotto, voglio dire, i monumenti oceanici non sono rotti così tanto. Anzi, non sono proprio rotti. Mentre invece il monumento abissale è molto rotto. Potrebbe essere spiegato dal fatto che Cthulhu si è svegliato e i guardiani. Scusate un attimo. Scusate. Ci sono stati delle difficolt... Ok. E i guardiani sappiamo che sono stati creati non per proteggere Cthulhu, sono stati creati per proteggere la struttura. e Cthulhu, distruggendo la struttura, e loro quindi sono andati ad attaccare Cthulhu. E il guardiano antico, che probabilmente era il capo, insomma, di tutti i guardiani, si è beccato, è evidente una cicatrice. Si è beccato, è evidente la cicatrice, poi è diventato quello che è oggi, comunque. Spiegando anche perché Cthulhu quindi non è finente al capo dato alla fine del mondo. In ogni caso direi che per questo video può anche essere tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!